Ben ritrovati a questo corso di computer che mira a insegnare nel modo più semplice possibile l'utilizzo di questo elettrodomestico, perché ormai così non si può non chiamare il computer appunto. Siamo sempre in compagnia del nostro esperto informatico Umberto Firelli. Ciao Umberto. Ciao Antonio. E vediamo un po' di che cosa parliamo oggi? Beh, oggi cominceremo ad adentrarci proprio nell'utilizzo del computer con una delle cose più diffuse. Diciamo che ormai una delle cose principali che si fanno col computer è scrivere dei testi. Quindi noi utilizzeremo oggi i principali programmi di videoscrittura e vedremo come creare un testo, come salvarlo nel nostro computer, come modificarlo, insomma gestirlo in maniera completa. Allora, come io ho già detto anche nelle precedenti lezioni, sono un appassionato della scrittura, amo scrivere poesie, sono anche molto bravo. Ce le farai leggere. No, sono un pochino timido da questo punto di vista, però io voglio sapere, se ho un computer sotto mano, come in questo caso, quali programmi posso usare, quali programmi trovo immediatamente e subito per poter scrivere qualcosa? Beh, effettivamente, immediatamente, per scrivere appena acceso al nostro computer, ci sono due programmi a disposizione che sono preinstallati sul nostro computer, quindi non dobbiamo aggiungere nessun programma per poter scrivere. Questi due programmi sono il notepad, detto anche blocco note, o il wordpad, che è una versione, diciamo, un po' più evoluta del blocco note con caratteristiche aggiuntive. Bene, quindi io che cosa posso fare di preciso? Vado sul mio desto, ormai... Esatto, sai che quello è il nostro punto di partenza. Da lì semplicemente creiamo un nuovo documento di testo, perché col blocco note si elaborano appunto documenti di testo. Ti ricordi come fare a creare un nuovo documento? Allora, io clicco con il tasto destro... Giusto. ...del mouse. Esatto. Vado su nuovo. Si apre un menu, scegli nuovo. E poi vado su documento di testo. Esatto, è molto semplice, è intuitivo. Clicco. Clicca pure col tasto sinistro, questa volta, per confermare la tua scelta. Bene. Che cosa è accaduto? È accaduto che mi è apparso dal nulla, praticamente, un nuovo documento che si chiama appunto nuovo documento di testo.txt. Io presumo di dover cliccare in un punto a caso... Sì, perché in questo momento è selezionato il nome, perché il nuovo documento di testo è un nome standard che viene assegnato al nuovo documento creato prima del primo utilizzo, ma è chiaro che probabilmente nel caso di una delle due poesie tu metterai il titolo di questa poesia. In questo caso noi per deselezionare il nome del documento evidenziato clicchiamo col tasto sinistro in un punto qualunque del desktop. Quindi io vado qui... Clicco... Esatto, deselezionare, l'abbiamo già imparato, è un'operazione che si fa molto di frequente. A questo punto abbiamo il nostro nuovo documento di testo sul desktop. Come facciamo ad aprirlo? Esatto, allora io clicco due volte... Giusto. Cliccare due volte, ormai abbiamo imparato, è sempre con il tasto sinistro del mouse... Esatto, e serve per aprire un documento o eseguire un programma. Ecco qua. Oh, pagina bianca. Esatto, abbiamo una pagina bianca, in alto c'è il nome del nostro documento, nuovo documento di testo.txt e poi di fianco c'è scritto blocco note. A questo punto questa pagina bianca è il documento di testo che abbiamo creato su cui possiamo scrivere. Allora io sono pronto a scrivere, però naturalmente per scrivere ho bisogno di usare la tastiera. Come faccio a usarla? Voglio dire, per esempio, se dovessi mettere le maiuscole o le accenti, le apostrofi, cosa faccio? È una giusta osservazione la tua perché questa tastiera non è ovviamente una normale tastiera da macchina da scrivere che magari è un oggetto con cui abbiamo più familiarità, ma presenta alcuni tasti un po' particolari. Andiamo un attimo a osservarla insieme. Innanzitutto hai parlato delle maiuscole. Per fare le maiuscole c'è un tasto, anzi ce ne sono due, ai due estremi destro e sinistro della tastiera, con una freccia rivolta verso l'alto e a volte c'è anche la scritta maiuscola, non so sulla nostra tastiera se c'è. C'è scritto maiusc. Esatto, perché non ci stava su tutto il tasto. E quel tasto serve, tenendolo premuto e premendo la lettera corrispondente, a fare le lettere maiuscole. Ma non solo, ci sono anche altri tasti, ad esempio quelli numerici che vedi in alto, che hanno sopra un simbolo. Per fare quel simbolo, ad esempio il simbolo di percentuale mi viene in mente, o il simbolo del dollaro, viene utilizzato sempre il tasto maiuscolo. Faccio qualche prova. Certo. Quindi se io dovessi scrivere il mio nome Antonio, naturalmente la A va in maiuscolo, quindi io pigio il tasto maiusc, lo tieni premuto, lo tengo premuto e poi premo A. E lasci andare adesso il tasto maiuscolo per scrivere il resto del tuo nome in minuscolo. E il resto viene minuscolo. Esatto. Se io volessi attaccare al mio nome il simbolo del denaro... Sì, dovresti tenere premuto il maiuscolo, guardare il tasto corrispondente, credo sia il 4... Il 4, hai ragione. E premerlo. Insieme. Esatto. È di buon auspicio Antonio Dollari, spero. Antonio Dollari. Quindi io praticamente se premo 4, mi viene 4. Esatto. Se premo maiusc e 4... Esce il simbolo. Hai fatto un'altra cosa molto interessante, hai separato il tuo nome dal simbolo che hai scritto, da uno spazio. Per farlo bisogna utilizzare la barra spaziatrice, questa è identica a quella della macchina da scrivere. Inoltre, magari al termine di questa linea vorrai andare a capo e per farlo devi utilizzare il tasto invio che presenta la scritta invio e una freccia rivolta verso l'interno. Quindi io premo questo tasto... Esatto. ...e vado al rigo successivo. Esatto. Prova a scrivere adesso qualche carattere a caso. Allora, ciao, cioa. Esatto. Mettiamo che tu ti sia sbagliato. Hai fatto una cosa già da solo molto interessante perché è molto intuitiva la tastiera. Hai cancellato dei caratteri. Ho cancellato perché ho capito che questa freccetta all'indietro mi fa portare indietro la mia posizione. Esatto, esatto. Serve proprio per cancellare ciò che abbiamo sbagliato. Spesso avete visto, magari non conoscendo qualcosa, il computer ci dà delle soluzioni intuitive. E' stato progettato con, diciamo, un'intelligenza tale per poterci far capire che cosa dobbiamo fare anche se non ne siamo ancora esperti. Quindi se io ho scritto cioa invece di ciao, torno indietro con questo tasto... Esatto, che ha una freccia rivolta verso sinistra e serve appunto per cancellare. E poi riscrivo a o ciao. Esatto. Esattamente. Ma io posso tornare indietro soltanto con la tastiera o anche in altro modo? No, allora, con la tastiera ti puoi anche spostare all'interno del testo che hai scritto utilizzando le frecce direzionali. Vedi quelle quattro tasti con le freccine. Questo è qui. Però ti puoi spostare anche con il mouse. Cioè prendendo il cursore del mouse, muovendo il mouse e cliccando in un punto preciso del testo, puoi scegliere dove posizionarti. Ti indicherà la posizione, il cursore lampeggiante. Quindi io posso con la freccia all'indietro, questa piccoletta adesso... Esatto, prova pure a fare. ...tornare indietro e vado davanti alla C di ciao. Esatto. Oppure per tornare alla fine della parola, quindi alla O, con il mouse, clicco dopo la O. Esattamente, il cursore indica il punto in cui noi inizieremo a scrivere. Cioè quindi dove ti sei posizionato significa che apparirà la prima lettera che digiti. Quindi in poche parole abbiamo capito che la tastiera è più o meno semplice, nel senso che ci ricorda quella della macchina da scrivere. Il tasto maiusc ci aiuta a rendere le lettere da minuscolo a maiuscolo e allo stesso tempo ci aiuta anche a selezionare, a digitare i simboli sopra ai tasti con i numeri. Giusto. Che cos'altro devo sapere? Beh, ci sono alcuni tasti, non tanti in verità, che se guarderai bene nella tastiera troverai. Di simboli ne hanno addirittura tre. Uno molto particolare è la chiocciolina che impareremo ad usare per scrivere le email. Questo terzo simbolo presente su questi tasti può essere ottenuto tenendo premuto un altro tasto che non è il tasto maiusc, che si chiama anche shift, è una parola inglese però è bene che cominciamo a fare orecchio a questa terminologia, ma il tasto Alt-G-R che ha scritto esattamente queste parole si trova quasi sempre a destra della barra spaziatrice. Allora, quindi io lo vedo, questa funzione ti chiedo, cioè selezionare la chiocciolina che è il simbolo fondamentale per gli indirizzi di posta elettronica per le email, la posso fare, la posso selezionare con soltanto una mano, con la destra? Volendo sì, è molto più comodo perché tieni premuto di solito con il pollice della destra il tasto Alt-G-R e premi il tasto corrispondente che ha sopra la chiocciolina. Provo? Provo pure. Allora, io mi trovo sempre alla fine della parola ciao, do uno spazio e poi Alt-G-R e questo tasto qui, chiocciola. E appare la chiocciolina che serve appunto per digitare un indirizzo email. Questa è una funzione abbastanza particolare ma l'abbiamo ricordata proprio per la sua utilità futura. Diciamo che quello che ho scritto mi va bene, sembra quasi un codice militare. È una poesia moderna diciamo. Sì esatto, molto moderna. Voglio salvare questo documento, questo file. Fai bene a farlo perché altrimenti perderemo tutto ciò che abbiamo fatto. Per farlo il comando diciamo più comodo è utilizzare il menu che vediamo in alto sotto la barra del titolo. Appunto vediamo una scritta file che è la prima di questo menu grigio. Cliccaci sopra, si apre un menu a tendina. All'interno ci sono due voci relative al salvataggio. Quella che utilizzeremo adesso è salva con nome perché è la prima volta che salviamo questo documento. Quindi vado su salva con nome e clicco. Esatto. Eccomi. E mi trovo sul desktop. Esatto. Ti apre una finestra che ti indica in alto salva in e propone il desktop che diciamo è la proposta di base. Si dice di default cioè quella che viene proposta se non facciamo scelte differenti. Ma io non lo voglio salvare nel desktop, lo voglio salvare per esempio nella famosa cartella pippo che avevo salvato, creato anzi nelle lezioni precedenti che adesso si trova dentro alla cartella documenti. Esatto. Allora per farlo vedi che sotto vengono proposte altre alternative. C'è proprio la cartella documenti. Clicca sulla cartella documenti due volte. Qui? Sì, va benissimo. Ci sono due posizioni diverse, vedi in cui appare la cartella documenti. Vanno bene entrambe. Provo qui, clicco due volte, eccoci. All'interno vedrai le cartelle diciamo di sistema, immagini, musica e video e anche la cartella che hai creato precedentemente. Pippo, clicco due volte. Esatto. Bene, adesso salvo. Manca soltanto il nome del file e per assegnarlo devi andare in basso dove c'è scritto appunto nome file e ci propone credo un nuovo documento di testo, cioè il nome che ci aveva proposto il programma all'inizio. Quindi io cosa faccio? Tu devi andare all'interno della scritta, evidenziarla. Ma è venuta da solo, ho cliccato una volta e mi sei... Esattamente perché il computer intuitivamente sa che cliccare su quel tipo di finestra significa che vuoi modificare il nome. A questo punto puoi digitare il nome del tuo file, quello che hai scelto. Soldi. Soldi, appropriato visto il simbolo del dollaro. Esatto. E aggiungere anche .txt in questo caso perché noi sappiamo che è un file di testo. .txt E diamo il tasto invio oppure clicchiamo su salva. Anche qui abbiamo diverse alternative. Preferisco fare invio con la tastiera? È sicuramente più comodo. Vado? Sì. Ok. A questo punto noi abbiamo salvato il nostro file e lo capiamo dal fatto che è cambiato il nome in alto nella barra del titolo. Non abbiamo più un nuovo documento di testo ma soldi. Esatto, vero. Bene, diciamo che io adesso voglio chiuderlo questo programma. Sì. Quindi io chiudo, c'è anche scritto. Certo, propone anche la scritta chiudi. E l'ho chiuso. A questo punto è bene ricordare che noi abbiamo salvato il nostro documento all'interno della cartella Pippo ma non abbiamo cancellato quello iniziale che è ancora sul nostro desktop e che volendo possiamo eliminare. Perfetto, quindi io per eliminarlo mi hai detto che posso fare tasto destro del menu. Sì. Ho sbagliato. Tasto destro del menu. Sì. E si va su elimina. Elimina. Lui mi chiede ma sei sicuro, ma sei sicuro? Assolutamente le operazioni delicate hanno sempre necessità di una conferma e l'eliminazione è una delle più delicate. Io dico sì, sono sicuro e è andato nel cestino. Esatto, quindi abbiamo salvato il nostro documento con un altro nome dopo averlo modificato e questa diciamo che è un'operazione che non vale soltanto per la videoscrittura ma per qualunque altro tipo di file che utilizzeremo in seguito. Mi avevi parlato anche del programma WordPad. Sì, il programma WordPad è anch'esso distribuito con il computer, cioè quando abbiamo installato Windows troveremo il programma WordPad che presenta delle caratteristiche aggiuntive rispetto al notepad, possibilità di modificare il nostro testo e fare operazioni un po' più complesse. Siccome però queste operazioni sono le stesse che si possono fare con Word, diciamo in numero minore, non ci soffermeremo adesso sul WordPad ma andremo a esaminare invece il programma Word. Bene, sono molto curioso. Bene, la mia attività di scrittura deve essere incrementata. Abbiamo capito, abbiamo studiato come si utilizza il notepad. Adesso invece parliamo di un programma che io ho sentito un sacco di volte, Word, Microsoft Office Word. Che cos'è Umberto? Esatto, allora Microsoft Office Word è sicuramente il programma di videoscrittura più diffuso. Word infatti significa parola, è una parola inglese che significa parola, esatto, un gioco di parole ulteriore. Allora, il programma fa parte di un pacchetto che si chiama Microsoft Office. Quando usiamo il termine pacchetto riferito all'informatica significa un insieme di programmi che viene di solito venduto insieme. Microsoft Office significa appunto ufficio e Word ne fa parte. Non è però l'unico programma di videoscrittura che possiamo utilizzare, anzi ve ne sono altri come ad esempio OpenOffice che si possono scaricare gratuitamente dalla rete, ma questo sicuramente verrà fatto in seguito. Andiamo a vedere appunto se c'è Word sul nostro computer. Allora io ce l'ho e guarda caso ce l'ho già pronto sul desktop di questo computer. Ottimo, quindi possiamo eseguirlo facendo doppio clic col tasto sinistro. Allora io apro questo documento, questo programma, ecco, e mi è venuto questo. Esatto. E mi sembra veramente molto complicato. Esatto, ci troviamo di fronte alla stessa pagina bianca però abbiamo qualche cosa in più. Innanzitutto abbiamo la barra del titolo che è sempre identica con i soliti tasti per impicciolire e chiudere. Poi dopo abbiamo il menu che abbiamo visto simile anche all'interno del notepad che è il menu con le voci file, modifica, che ci permette di accedere a tutte le varie voci del programma e tutti i programmi sono organizzati in questo modo, cioè presentano questi menu. Poi ci sono le barre degli strumenti che invece sono specifiche e servono appunto per eseguire in maniera abbreviata alcuni comandi, quelli più comuni, quelli più diffusi, che ci serviranno per realizzare il nostro testo. Allora, io devo dire che sono spaventato, davvero, perché apro un documento nuovo, insomma apro un programma nuovo, mi trovo tantissime nuove voci, disegnini a me incomprensibili, quindi aiutami a cercare di capire. Sì, la cosa fondamentale è che questi comandi, queste barre degli strumenti servono per eseguire la formattazione del testo. Allora, la formattazione, ecco, un'altra parola che mi spaventa, formattazione, che cosa vuol dire formattare? Ecco, formattare è un termine su cui ci dobbiamo soffermare, ecco, perché viene usato spesso in maniera un po' impropria, cioè formattare significa dare un formato, quindi nel caso di un testo dargli delle caratteristiche di impaginazione, di grandezza del carattere, che andremo ad esaminare. Viene però utilizzato spesso in informatica, riferito al disco fisso, cioè alla memoria principale del nostro computer, con il termine formattare il disco fisso. In questo caso, formattare il disco fisso significa in realtà cancellarlo, è usato in maniera impropria. In questo caso noi parliamo di formattazione riferita soltanto allo stile, alle caratteristiche che vogliamo dare al nostro testo. Quindi, per ricapitolare, ho capito, formattare un testo vuol dire non cancellarlo, ma cambiarne la grandezza dei caratteri o altre cose. Formattare invece un computer, un disco che è dentro a un computer, vuol dire cancellare tutto. Esatto, ricominciare da capo, ma non è quello che vogliamo fare. Allora, vediamo un po', proviamo a formattare un testo. Io provo a scrivere le mie solite cose, quindi scrivo Antonio, tenendo conto che faccio il maiuscolo dell'A con maiusc e A. Esatto. Antonio, poi do spazio, scrivo ciao. Benissimo. Sì, sì, è un testo di base che utilizzeremo per fare qualche prova. Allora, abbiamo scritto un testo e vogliamo intervenire sul nostro testo. La prima cosa che dobbiamo fare è selezionarlo, cioè tutto ciò che noi vogliamo modificare o su cui vogliamo eseguire un'azione all'interno del computer, va selezionato. L'abbiamo fatto con i file sul desktop e lo possiamo fare anche nel nostro documento di testo utilizzando il mouse. Come farlo? Bisogna farlo con la stessa tecnica che utilizzavamo per il trascinamento, cioè posizionarci con il cursore, ad esempio, alla fine del testo, dove già ci troviamo, premere il tasto sinistro, tenerlo premuto e scorrere il cursore in modo da evidenziare il testo. Vedrai che il testo verrà evidenziato automaticamente. Allora, quindi io alla fine della parola ciao clicco una volta, tenendo cliccato sposto il mouse all'indietro e è diventato nero. Esatto, diventa praticamente negativo. Il testo che prima era nero su fondo bianco diventa bianco su fondo bianco. Ora non più. Esatto, perché l'hai deselezionato, l'abbiamo visto anche prima. Non l'ho fatto apposta, mi è scappato. No, capita spesso infatti, ma è bene sapere che cosa succede per non spaventarci. Nel momento in cui noi abbiamo selezionato il nostro testo non dobbiamo più ricliccare col mouse in una parte vuota del nostro foglio perché automaticamente diciamo al computer che non abbiamo più intenzione di usare quella selezione. Ti invito quindi a riselezionarlo e a non premere più alcun tasto in modo da lasciare selezionato. Prometto non lo faccio più. Bravissimo. Allora, a questo punto possiamo intervenire prima di tutto sul tipo di carattere che utilizziamo. Vedrai che nella barra degli strumenti troverai una voce Times New Roman. Infatti, io vedo questa scritta Times New Roman che vuol dire nuovo romano. Esatto, letteralmente vuol dire questo. Però è semplicemente il nome di un tipo di carattere che si chiama anche font. Font. Allora, per modificarlo, questo menu dove c'è scritto Times New Roman si apre cliccando sulla freccina in basso che c'è a destra della scritta Times New Roman. Qui. Oh. E vedrai tanti tipi di carattere. Tra l'altro, i nomi dei caratteri sono scritti utilizzando quel medesimo carattere. Quindi ti puoi già rendere conto di quale sarà il risultato finale. Ho capito. Quindi io quando scrivo trovo di default. Bravissimo. Di default quindi vuol dire già preimpostato un tipo di carattere, un tipo di font che penso sia Times New Roman. Esatto. Se io volessi cambiare questo carattere perché non mi piace, non voglio più particolare, più artistico, seleziono e poi con la freccetta destra vado nel menu a tendina dei caratteri e ne trovo tanti. Ce ne sono tantissimi. Bisogna scorrere perché a seconda del tipo di foglio, di documento che vogliamo creare, un carattere può essere più adatto di un altro. Magari una lettera commerciale o per lavoro deve avere determinate caratteristiche. Una delle tue poesie puoi scriverla con un carattere un po' più divertente. Ho già trovato lo stile che mi piace, che è questo. Ora non so se si renderà... però è molto piccolo così, non si vede. Esatto. Approfittiamo per vedere che oltre a cambiare il carattere possiamo cambiare nella dimensione. Riselezioniamo il testo che adesso è scritto in carattere molto piccolo. Molto piccolo. E vediamo che di fianco al nome del carattere troverai un numero, in questo caso il 12, che è diciamo quello anch'esso di default, che può essere modificato con un menu identico a quello del tipo di carattere. Molto più grande però deve essere adesso perché... Assolutamente. Tu guarda il rapporto essendo 12, se tu lo vuoi il doppio diventerà 24 oppure puoi scegliere. Proviamo 24. È sicuramente già più comprensibile. È molto bello questo Antonio Ciao scritto come se fosse una scrittura, una calligrafia insomma a mano. Esatto. Possiamo proseguire nelle modifiche che vogliamo fare nel nostro testo, riselezionandolo ulteriormente. Provo a ritornare su Times New Roman. Sì, torniamo al carattere di base perché questo è un po' particolare. Allora, Times New Roman. Sono in ordine alfabetico ovviamente i caratteri all'interno della tendina. Quindi eccolo qua. Esatto. Manteniamo comunque la dimensione 24 perché le stesse operazioni si possono fare su caratteri di dimensione diversa. Riselezionandolo proviamo adesso ad applicare alcune caratteristiche alla nostra scritta. Vedrai che scorrendo sempre a destra nella barra degli strumenti, di fianco alla grandezza del carattere, troverai tre tasti con una lettera sopra. Infatti io ci sono passato sopra con il mouse e su questa G mi è apparsa la parola grassetto. Esatto. Ricordate quella piccola etichetta abbiamo già visto che appare quando con il mouse andiamo sopra un oggetto o a un tasto. Ci aiuta a capire di che cosa si tratta. In questo caso è molto evidente. Grassetto. Quindi grassetto, nonostante io non mangio nemmeno tantissimo, però è un altro tipo di grassetto questo. Vado, clicco. Vedrai che il tuo carattere è diventato un po' più robusto. Sì, è vero. Esatto. Possiamo tornare indietro da questa operazione in due modi. Il primo è riselezionare il nostro testo e ripremere la lettera G che significa grassetto. Ma c'è anche un altro comando molto importante che è bene imparare il prima possibile che è il comando annulla. Significa che qualunque operazione noi abbiamo fatto con il nostro computer possiamo annullarla semplicemente premendo un tasto. Ma parliamo di tutto il computer o specificatamente di questo programma? No, stiamo parlando specificatamente delle operazioni che si eseguono durante la videoscrittura. Quindi se io per esempio scrivo una cosa che non mi piace o faccio una trasformazione del carattere che non mi aggrada... Esatto. Non devo rifare il procedimento inverso, cioè andare a riselezionare e rifare l'operazione che magari può essere stata complessa, quindi risulta complesso anche rifarla a ritroso, ma posso semplicemente scegliere annulla. Ora, il comando annulla si trova all'interno del menu modifica, che è la seconda voce accanto a file. Clicco. Esatto. E c'è la voce annulla. Annulla grassetto. Esatto. Clicca pure e verrà annullato il grassetto. Tuttavia proviamo a rimetterlo. Il grassetto? Sì, seleziona e rimetterlo. Quindi seleziono e vado su grassetto. Esatto. Nella barra degli strumenti, proprio in questo caso sopra la lettera G, c'è una freccia azzurra, leggermente ricurva, che punta verso sinistra. Se vai sopra con il mouse... Questa qui. Esatto. Hai visto l'etichetta cosa dice? È lo stesso comando. Annulla grassetto. Esatto. Questo vale per qualunque comando abbiamo fatto. Cioè l'ultimo comando, in realtà si può risalire anche più indietro, ma per adesso impariamo questo, può essere annullato con una semplice pressione sulla freccia Annulla, ed è veramente di una grande comodità. Quindi io clicco e mi torna non più in grassetto, ma nella scrittura originaria. Esatto. Di fianco al grassetto ci sono altri due tasti che possiamo evidenziare, che sono la C di corsivo, e vedrai che apparirà la scritta, e la S di sottolineato. Ormai sei diventato bravissimo e vedo che ti muovi con grande disinvoltura. Posso farlo tutto insieme? Certo. Mantenendo il corsivo posso anche sottolineare? Esatto. Inoltre vedrai che la lettera che premi diventa arancione, e con un riquadro intorno, per far capire che abbiamo effettivamente dato quel comando a quel carattere. Ho capito. Inoltre scorrendo a destra nella barra degli strumenti troverai dei tasti che ti permettono di gestire l'allineamento a sinistra, al centro e a destra del tuo testo, e inoltre altri che ti permettono di evidenziare il testo con dei colori, come se fosse un evidenziatore. No, evidenziare mi piace molto. Provo brevemente. Seleziona. Ho capito che devo selezionare. Poi vado su questo evidenziatore giallo. Chiarissimo. Ed è evidenziato. E questa ha rossa? Questa serve per cambiare invece il colore proprio del carattere. Puoi provare adesso a mettere, selezionando, il carattere di colore rosso. Quindi io clicco, vado su rosso. Appaiono tutti i colori. Antonio Ciao, scritto in rosso. In rosso corsivo, sottolineato. E siamo quasi arrivati in conclusione. Salvo il documento come mi hai insegnato sul notepad? Esattamente, nello stesso modo. Andando nel menu file. File, salvo con nome. Esatto. Scegli in che cartella, io ti suggerisco di utilizzare la cartella Pippo che abbiamo già usato. Sempre. E dai un nome al tuo documento, che in questo caso non è un punto TXT, ma è un punto DOC, che significa documento. E a me va bene che si chiami Antonio Ciao. Allora, se quel nome va bene, basta cliccare su Salva. Ecco. Chiudo e chiudi. Bene, abbiamo capito quindi gli inizi di una videoscrittura con il computer. Il programma Notepad, il programma naturalmente ancora più importante che è Microsoft Office Word. Direi che per questa lezione è tutto, ma io mai come tradizione vi lascio con Umberto, al quale chiedo gentilmente di fare un piccolo rassunto di tutto quello che abbiamo detto. In questa quinta lezione abbiamo imparato a utilizzare i principali programmi di videoscrittura. Il Notepad, preinstallato sul nostro computer, e Microsoft Office Word, il principale programma per elaborare testi. Abbiamo imparato come creare un nuovo documento, come scriverci del testo e come modificarne le principali caratteristiche. Nella prossima lezione ci addentreremo meglio nell'utilizzo di questi programmi.